E' l'Italia che cambia, è l'Italia che pedala Sui sentieri differenti, ecologici e coerenti Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai Quest'Italia che cambia, siamo noi Io parto con studi da geometra, ho 7-8 anni di lavoro come geometra E dopo mi ha aiutato un po' la crisi Perché mi ha fatto calare il ritmo lavorativo Questo rallentamento mi ha dato la possibilità di pensarci un attimo Ragionare, dire ma sarà proprio quello che voglio fare nella mia vita Da lì piano piano ho iniziato a montare l'idea di orto ciclo Ho sempre vissuto in un paesino vicino a Brescia Dopo mi sono trasferito pian piano verso il centro storico E da lì anche ha cominciato a venire l'idea Ma c'è qualcosa che manca nel centro storico Il servizio di approvvigionamento di ortaggi Frutto ortaggio, biologica, comunque non è così immediato La gente deve spostarsi, comunque deve andare in azienda agricola Deve andare in mercati contadini Mi è venuta questa idea di provare a fare consegna a domicilio Con una cargo bike, quindi in mezzo totalmente ecosostenibile Quindi mi sembrava un servizio da una parte che mancava E da una parte che rispondeva anche delle mie esigenze personali L'idea è iniziata a ragionarci due anni e mezzo fa E dopo è partito giugno dell'anno scorso, del 2015 Mi approvvigiono da azienda agricola Quindi mi appoggio da azienda agricola Che ovviamente conosco io personalmente Vado a ritirare i prodotti la mattina Prodotti che mi vengono ordinati entro il giorno prima Tramite il sito internet E dopo faccio consegne al pomeriggio In certe fasce orarie O in punti di smistamento Quindi la gente può anche venire a prendersi i prodotti Consegne sono martedì e venerdì Uno magari dice, ok, lavori due giorni a settimana Quindi gli altri te la godi Invece c'è tutto un lavoro collaterale Di comunicazione, relazioni Io ho un ricarico ovviamente sui prodotti La consegna, non la faccio pagare Perché questo poi è il mio lavoro, il mio servizio Fondamentalmente è un gas organizzato in maniera leggermente diversa Però è come se fosse un gruppo d'acquisto Perché comunque io non ho eccedenze Vendo tutto quello che mi viene ordinato Ovviamente la spesa più grande è stata Il mezzo con cui trasporto i prodotti Che è questa Cargo Bike La Cargo Bike è questa, una bici Una bici a due o tre ruote La mia è a due ruote Con un grande cassone Molto capiente Che sta tra il manubrio e la ruota davanti Quindi dove si può caricare tanta roba L'immaginario della bici Si conta molto Nel senso che comunque In primis è una mia scelta a livello proprio etico E poi comunque mi piace La gente quando mi vede in giro con questa bici pittoresca Comunque sorride Quindi questa cosa è molto bella La gente mi ha conosciuto bene o male Con passaparola iniziale Ho cercato di spargere voce E quindi all'inizio c'è stata proprio una bella spinta Adesso invece è diventato un po' un'icona Nel senso che la gente comunque mi vede tanto in giro Con questa bici molto appariscente Molto bella E quindi mi conoscono in tanti Comincio a vedere i primi I buoni risultati adesso A breve avrò bisogno di una mano Perché pian piano comunque gli ordini aumentano E io da solo non posso proprio fisicamente occuparmene All'inizio magari viene presa un po' Come una cosa nuova Una cosa insolita Comunque ordinare prodotti freschi online Non è così immediato ancora per la gente Però col fatto che io ci metto la faccia E quindi c'è un rapporto Faccio un po' da facilitatore appunto Tra aziende agricole, produttori, locali e cittadini Quindi la gente dopo un po' mi vede C'è un rapporto umano E quindi è bello questo rapporto di fiducia Che si crea su tre vie Italia che cambia Per me è un qualcosa che viene dal basso Molto basso Come potrebbe essere la realtà di OrtoCiclo Questi progetti che comunque partono Dalle singole persone O da gruppi di persone Piccoli gruppi C'è tantissima gente che ha voglia di cambiare le cose Questo è quindi Lavorare da molto basso Per poi costruire qualcosa di bello e permanente